Le case di riposo triestine subiscono un sottofinanziamento degli oneri sanitari da parte della regione di circa 5 euro al giorno. Il problema non è nuovo, ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali Carlo Grilli, ospite stamane nella prima parte di Svedia Trieste, ma di concetto con le altre strutture di assistenza, prima fra tutte l'ITIS, abbiamo affrontato la questione anche per sgravare i cittadini dal dover compensare la differenza tra l'effettivo dovuto e il contributo pubblico. Si sono sosseguite le giunte regionali, ma questo è un tema che non è mai stato affrontato. L'abbiamo riproposto, abbiamo chiesto all'assessore Telesca attraverso un documento congiunto con le realtà che si occupano di strutture residenziali e l'abbiamo sottoposto, mi auguro a breve di avere una risposta che in questo momento ancora non abbiamo, ma diciamo che il rapporto con l'assessore è un rapporto continuo, per cui mi auguro che ci possa essere una risposta e mi auguro anche che possa andare a definizione proprio per agevolare le persone, i familiari o le persone stesse che contribuiscono alla retta della casa di riposo, perché come potete capire 5 euro al giorno cominciano a essere una cifra importante che andrebbe a sgravare proprio le persone, gli utenti diciamo delle strutture. Grilli inoltre sottolinea come altrove tal importo di 5 euro giornalieri venga viceversa regolarmente erogato. Il resto delle regioni sono finanziati e per accordi particolari ancora di anni fa in questo territorio non sono stati applicati. Oggi non si ritrovano in maniera puntuale e aderente su quella che è la necessità, per cui noi abbiamo riproposto questo tema e mi auguro a breve di avere, ripeto, una risposta.